we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi anzi proprio adesso sarà disponibile il download dell'aggiornamento 13.00 la season 3 del capitolo 2 di fortnite so che tanti mi stavano aspettando in live su twitch ma ho un grande importantissimo impegno oggi e non posso essere presente quindi vi auguro di divertirvi tantissimo mi troverete questo pomeriggio non vi preoccupate accenderò insieme a voi verso metà pomeriggio indicativamente e andremo avanti guardando insieme tutto quello che c'è da vedere in questo nuovo capitolo di fortnite ma nel video news di oggi ci sono davvero un sacco di cose che sono state aggiunte nelle ultime ore si parla di teaser si parla di nuovo non voglio spoilerarvi non voglio spoilerarvi però voglio ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi ed è una cosa molto importante l'attore jason momoa penso si pronunci così ha pubblicato nelle sue storie di instagram è un teaser di fortnite il teaser è quello inerente al tridente e ora tu mi stai dicendo ma che cavolo me ne frega beh ragazzi l'attore jason momoa è in realtà lo stesso che ha interpretato aquaman quindi si pensa che nella season 3 e vi faccio vedere fra poco anche un'altra cosa ci potrà essere un nuovo supereroe chiamiamolo così che farà capolino come abbiamo avuto deadpool in questo capitolo della season 2 aquaman sembra essere quello della season 3 ci sono tanti fattori che vi stavo anticipando il teaser ufficiale è questo lo abbiamo visto tutti da epic games e appunto quella cosa lì gialla non è altro che un tridente come state vedendo appunto in quest'altra immagine tra l'altro molto curioso ragazzi perché tutti i teaser di epic games di fortnite ufficiali di questi ultimi due giorni hanno questa strana diciamo visuale come se fossero da un obiettivo però forse non è un obiettivo di una fotocamera ne vediamo un altro intanto questo sembra quasi addirittura la morte nera di star wars comunque qualcosa di simile inerente qualche pianeta e ne abbiamo un altro invece come notate non è altro che un pianeta molto più piccolo quasi un giocattolo che rimane sotto al braccio di quello che sembra essere un astronauta diciamo che questo outfit che si intravede assomiglia molto all'astronauta della season 3 non so se ve li ricordate però del precedente capitolo dove appunto ci furono si era la season 3 mi sembra sì ci furono gli astronauti e andiamo avanti perché arrivano altri teaser nella giornata di ieri questo è molto interessante perché mostra una barca con uno sfondo che sembra essere una location ancora sconosciuta anche se molti dicono che in realtà non è altro che il piccolo molo vicino al pozzo di adesso secondo me invece è una location nuova mentre qua infatti notiamo che ci sono delle grosse differenze da quello che veniva detto addirittura delle torrette in legno e nonostante io credo che sia comunque una location dedicata alla zona di putrido di pantano palpitante me lo suggerisce appunto la barca me lo suggerisce anche quella rete lì a destra che sostiene le scatole anche perché le troviamo solo ed esclusivamente in quelle zone la cosa che vi anticipavo prima è che secondo me ha assolutamente senso è che tutti i teaser sono ripresi da quello che sembra essere un periscopio che cos'è un periscopio il periscopio praticamente è quella specie di cannocchiale che utilizzano i sottomarini per guardare in superficie e avrebbe totalmente senso questa cosa se si rivela severa perché appunto tanta tantissima acqua c'è in questa nuova season ovviamente è l'elemento principale lo abbiamo già visto dall'evento dell'altro ieri e sicuramente qualcosa potrebbe anche succedere ora io non dico che i sottomarini possono essere dei nuovi veicoli però chissà magari magari chi lo sa chi lo sa e quello che vi anticipavo invece su aquaman è una notizia davvero incredibile e super interessante riguardante ormai un paio di settimane fa vi ricorderete che vi avevo anticipato che tutte le skin criptate nei file di gioco vengono adesso mostrate guardate l'immagine di sinistra con questi con questo effetto tipo coriandoli no quindi un background viola e tutta la sagoma appunto sfocata sembrerebbe che guardando l'immagine di destra la sagoma possa essere manta che cos'è black manta in realtà è l'antagonista di aquaman così come nel suo ultimo film quindi lui che combatte appunto questo personaggio malvagio avrebbe totalmente senso per una seconda volta sia per il discorso di aquaman sia per il discorso di avere appunto una una side storyline quindi non una storia in principale ma un qualcosa che si intreccia un pochettino e che va per i fatti suoi un po come è successo per deadpool no che ha fatto tutte le sue cose nello sgabuzzino della lobby degli agenti potrebbe essere davvero il il grande scontro tra aquaman e black manta e andiamo avanti invece a vedere una roba incredibile ragazzi per tutti quelli che guardano i miei video si ricorderanno che già due mesi fa vi avevo liccato un un piccolo fungo e vi avevo anche fatto sentire dei suoni ve lo ricordate quello con il cappellone azzurro i puntini rosa poi l'avevamo visto nei render beh ragazzi guardate qua questa cosa guardate un po' eccolo lì eccolo lì questo fungo ragazzi mentre non si avvicinano ascoltiamolo che che schiparla è forte vedi che balla anche lui è davvero veramente è veramente simpaticissimo ma è una cosa molto interessante perché il funghetto come vedete ci potrà seguire per tutta la mappa perché è importante perché sembrerebbe guardando dei nuovi teaser innanzitutto questo è il una specie di motocicletta ma quello che ci interessa di più è questo sembrerebbe che ritorneranno i pets quindi gli zaini quelli che già siamo abituati a vedere con gli animaletti che appunto sono interattivi quindi ad esempio il cane ringhia quando vedeva gli avversari oppure c'era anche il mini omino di marzapane la cosa interessante è che potrebbero arrivare i pets non sotto forma di zaino ma potrebbero veramente seguirci e quindi aggiungere una cosa extra in più alla nostra esperienza di gioco questo mini miascolo visto così come vedete sta sopra una motocicletta potrebbe essere la motocicletta un nuovo veicolo per questa season magari a uno o due posti e la cosa interessante è che gli animali potranno sembrerebbe salire insieme a noi quindi ragazzi davvero una rivoluzione non vedo l'ora di capirci più anche io qualcosa tanta tanta roba e tra l'altro se noi andiamo ad unire i due teaser come vedete si sovrappongono e combaciano perfettamente quindi nuova location è parte di integrante del secondo teaser mischiata con il primo e andiamo avanti perché voi state vedendo questa immagine sfocata ma per capirla bene devo farvi vedere un altro spezzone video del signor Donato Mostarda ragazzi il Donato mi ha pubblicato un video dove gioca con il figlio e ha costruito un una roller coaster no praticamente una montagna russa di lego perché questa cosa è interessante perché ogni volta che il Donato mi mette su qualche cosa c'entra sempre con fortnite quindi a me non interessa sapere che lui ha creato con il suo figliolo una montagna russa mi interessa rendermi conto che questo è probabilmente un altro teaser del nuovo capitolo perché come vi stavo anticipando se andiamo a zoomare nel teaser del miascolo notiamo che quella cosa lì sfocata sembra proprio essere una montagna russa che sale delle rampe quindi potrebbe arrivare il nuovo parco giochi o una nuova location che il Donato ci ha spoilerato e che a noi spetta invece da scoprire insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qua a guardare il video vi ricordo che io non sono in live questa mattina ma ci rivedremo ci rivedremo questo pomeriggio non so a che ora vi ricordo di lasciare un bel like iscrivetevi ai canali e a me mi vedete più tardi nel pomeriggio ciao 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 ciao